A ogni nuovo governo la sanità sembra ridecollare, cancellando le tante assurdità del passato, tante parole lanciate al vento, compromesse che a volte ci traggono di inganno facendoci credere che prima o poi qualcosa succederà. Alla fine cosa accade? Nulla, anche meno di nulla. Gli organici di medici e infermieri sono sempre più carenti, le strutture ospedaliere sono in bilico tra la chiusura e il passaggio ai privati. Mancano i farmaci, molte sale operatorie sono obsolete e non lasciano certo traspirare fiducia. L'elenco è lunghissimo e interminabile, per non parlare poi dell'incapacità di chi continua a ricoprire posti strategici pur non avendone le qualità e solo in grazie al classico calcio nel sedere ricevuto dai nuovi paradini della legalità. E ancora la mala sanità che domina in più parti del paese, nonostante ci siano, fortunatamente, anche alcuni centri di eccellenza. Tutti promettono riforme, poi devono fare i conti con le casse, con le regole della burocrazia che impedisce di uscire dai margini dei bilanci. In tutta questo marasma, la bella pensata, tanto per gettare fumo negli occhi, quella delle ricette scritte in modo leggibile, ed era ora, ma non è una grande riforma, è solo una raccomandazione per cancellare sigle e acronomi scrivendo tutto in stampatello. Sarà la volta, forse, che la medicina parlerà anche ai semplici, ai semplici cittadini, ai pazienti, a chi chiede aiuto, lasciando da parte callegrafia crittata dei soloni in camice bianco.